Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono la tua mamma. Ammazzala. Ammazzala. Chi si misi? Chi si misi? Dobbiamo scappare. Ragazzi. Brava. Ammazzala. Deve morire. Deve morire. No, no, no. Allora, ascolta. La dobbiamo far sparire. Che è successo? Tu sai cosa è successo a Sonia? Non mi è successo niente. Sono chissimissi. Non succede niente. Sono chissimissi. Sara, ascolta mamma. Ora noi dobbiamo salvare Sonia. Cosa ha preso Sonia? Ma cosa ha fatto? Ricordati, tu stavi con... Non mi è successo niente. Ho capito, ho bevuto la pozione. La pozione? Quale pozione? Ho bevuto la pozione. Sembrava di alancia. Ma poi ha sembrato che era acqua. E poi ho bisogno di smesso. Giocate con me. Non ho bevuto nessuna pozione. Giocate. Giocate. È terrificante. Oh, no, no. Non so che si vede a noi. Si vede a noi, ti prego. Allora, Sara, ascolta. Cosa si può fare? Tu l'hai visto questo video, questo film, questo gioco? Tu l'hai visto? State parlando del gioco Puppet Playtime? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo noi. Adesso mi uccide. Scappiamo, Sara. Sì, è una mica. No! Che dita, mamma? Quale mica? Lei è cantiva, Sara. Sara, non è reale. Sara, non è Sonia. Eh, non lo so che cos'è. È una bambola assassina. È chissimissima l'assassina, Sara. No, Sara, no, no, mamma. Ascolta, Sara. Ascolta, mamma. No. Ma lei diventerà mia amica. Cosa ti hai fatto? Cosa l'hai fatto? Ragazzi, 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 per favore aiutatemi. Voi, voi... Oddio, no, 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 no. Oddio, mozzica, graffia! Graffia! Cosa devo fare? Qualcuno mi aiuti? Mi dite cosa devo fare? Come faccio a salvare Sonia? Mi ha trasformato anche la piccolina... Aiutatemi. Devi superare le sfide se vuoi che la tua figlia ribevia nel normale. Quale sfide devo superare? Ti prego, io supererò tutte le sfide che ci sono al mondo! Per riprendere anche te e te. Voglio farti tornare... La prima sarà... Ragazzi, io non ho visto questo gioco. Cosa sarà? La prima sarà! La prima cosa che hai visto sul gioco. Come? Ammazzare! No, ma ammazzare io non posso ammazzare nessuno! No, 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 no! Queste cose non le faccio io! Aki! Chi è Akiwaki? Questo mostro che prima avete disegnato! Questo è Akiwaki! Io devi ammazzare! Non ho quello, ma un altro che ho disegnato di... Va bene, ragazzi! Per riprendere le mie bambine, devo uccidere Akiwaki! Ragazzi, come lo posso uccidere? Vai! Con una pozione magica! Trappa il foglio! Ah, è semplice, ragazzi! Devo strappare solo il foglio! Ammazzalo! Ridami le mie bambine! Pronto, mostro! Ridami le mie bambine! Vado le mie bambine! Ancora? Ancora! Oh, mamma mia! Non è finita ancora! No! Dovrei fare questo di nuovo com'era! Il divano? Arriba io! Arriba! Ok, ok, ok! Lo faccio subito! Lo faccio subito! Vai! Ecco! Vi faccio subito un pollo! Non ci faccio nemmeno un attimo! Tutto rosa! Tutto rosa! Tutto rosa per te! Sbrigati! Sì, sì, sì! Ecco, ecco, tutto rosa! Tutto rosa per te! Ora? Non voglio un marrone! Ora mi ridai? Mi ridai le mie bimbe? Eh? Ritorno, Sonia! C'è l'ultima sfida! Quindi qual è l'ultima sfida? Ecco, ecco! Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno! Che succede? Adesso... Devi trovare l'oggetto magico! Io te lo nascondo! Che sarà? Questo! Questo pettine? Sì, io lo nascondo! E tu lo devi trovare! Chiudi gli occhi! Ok! Non è? Non vero? Oddio! Ho persino paura di sbirciare! Qua! Non lo troverò mai! Fatto, ragazzi! Mi piace andando! Posso aprire? Sì, sì, sì! Non ti dico nessun indizio! Hai sette minuti! Sette minuti? Anzi! Sarà! Due minuti! Sarà! Dove sta, mamma? Dove lo nascosto? Ne! Sì, tipo, sono un'altra cosa! Allora tu sei amica di lei! Intento solo un'altra cosa! Aspettino! Ok! Non la trovi! Allora, cerco il divano! Allora, cerco il divano! Comunque qua! Non c'è qua! Oddio! Non c'è! Dove, mamma? Dove, dove, dove? Non trovo niente! Trovato! Trovato! L'ho trovato! L'ho trovato! L'ho trovato! Chissimi sì! L'ho trovato! Oddio! No, non ti arrabbiare! Adesso torneranno le tue bambine e vado a letto! Non ti arrabbiare però! Ok? Ciao! Ritammi le mie bambine! Mamma! Che mi hai messo? Calzini qua? Sonia, vuoi guardarti allo specchio? Come si è accoggiata? Guardati allo specchio, Sonia! Mamma! Non sono stata io! Sì, sei stata te! Ti sei svegliata così! No! Ti sei svegliata così! Non è stata tu! No, guarda! Ti eri trasformata, non so, in una bambola chissimissima, veramente... Quella sta nel gioco! Sì, sei uscita dal gioco! Non lo so, sei entrata nel gioco! Ora, non so cosa dirti, ma senti... È stata cattiva all'inizio! Ha detto... A parte, guarda, mi ha ammazzicato! Mi ha gracchiato! Sì, sì, sì! Scherzo! Ragazzi, allora... Oh, mi dici sta storia? Come è successo? 1100 like! 1100 like, ragazzi! Sì, e Sonia beve anche la pozione di aghi u aghi! Va bene, ragazzi! Spero che... Il video finisce qua! Mamma sta dicendo già lo so, una bugia! E ci vediamo al prossimo video! Iscrivetevi al nostro canale per non perdere... Il prossimo video! Ciao ragazzi!